Buonasera e benvenuti a Sexy Bar Parisienne, stasera siamo sotto questo monumento spettacolare che ricorda in maniera figlia una gigantesca, come potete anche vedere sotto ci dovete vedere un big hole, allora ieri abbiamo parlato di fetish, un giro per pigal, soprannominata anche figal, allora stasera parleremo di big hole, fettini, con piccoli escursi anche sulle granny, per esempio questo bel palo, quanto bello è questo cappellone, allora basta ci siamo a Rocchilevalle mi viene da rire.